Ciao a tutti, oggi vi dico due parole sull'esperienza e una breve recensione su un joystick joypad che ho comprato un po' di tempo fa. Ha la presa USB, come potete vedere, un sacco di pulsanti, leghette, i pipoli, è davvero uno spasso. Funziona perfettamente su giochi per Windows quanto per Linux. In particolar modo è veramente interessante uno spasso questo joypad per SuperTux2 oppure su SuperTuxKart. In entrambi i giochi la periferica USB è perfettamente riconosciuta. L'unico elemento, prima di avviare il gioco, dovete pre-inserire nella USB ovviamente la periferica, poi lanciate il gioco SuperTux2 oppure su SuperTuxKart. Entrate nella configurazione di gioco, il joypad verrà automaticamente riconosciuto. L'unica cosa che potete fare è eventualmente cambiare la disposizione dei comandi, destra, sinistra, sopra, sotto, andando a selezionare quali pulsanti o quali levette preferite utilizzare nel gioco. È un acquisto davvero consigliato perché è veramente uno spasso. Ciao a tutti, alla prossima.